se poi oggi non c'è una certa continuità di risultati, anzi dispiace ancora di più che questo Foggia non riesce ad avere quella continuità che tutti speravamo. Poi certamente in un camionato ci sono dei momenti in cui le cose non ti vanno per il filo giusto un momento di appannamento però questo dura qualche partita qui invece purtroppo sta durando ormai da tempo e sta durando dalla gara contro il crotone perché non ci dobbiamo farci ingannare dal buona prestazione col Benevento, dalla buona prestazione che abbiamo fatto contro la Ligua e Stabia, dalla vittoria contro il Messina oppure naturalmente il Paese